Venezia è scopata il mare, scopata il mare quindi a Venezia Ha detto lei, io no Non mi sarei mai permesso Non cade questa cosa che dava un spettacolo Va bene, attenzione, è stata la partita, forza ragazzi Miretti, secondo tocco dopo 20 secondi Ma che maglia avete voi, quella gialla o quella nera? Abbiamo la giallo-blu stile Lido Ho capito Già l'andata, giocavamo con questa combinazione di maglie Soltanto 1-1 a Venezia Intanto notiamo come l'ottimo Mimmo Pesce da Venezia Continua a remare durante la telecronica Lei pensa di fare questa minchiata fino a sapere La partita Non ritiene di interrompersi prima Non so perché Finché non sento più il mare Lei era partito per fare per un'ora e mezzo questo movimento Va bene Ok, allora intanto vi metto subito vantaggio La partita al primo minuto Mimmo Sì, ripartiamo subito Faccio i complimenti per il copricapo tipicamente veneziano Il gondoliere Il gondoliere Attenzione, parte tutto dal portiere Baipà Ciancio, longo, 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 longo Ecco, inoltre la formazione della Juventus intanto E vi facciamo vedere appunto La vera novità è che Di Bala è in panchina E mi sembra un po' uno schiaffo il povero Di Bala Mentre gioca Pellegrini al primo minuto sulla sinistra Ha confermato Rabiò con Zaccaria Miretti, la vera novità Ci dici due cose in più su Miretti? Fabio Miretti, piemontese Quindi è un caso particolare nel particolare Perché è un prodotto del settore giovanile della Juventus Under 19, Under 23 Saluzzese di Cuneo Passato alla Juventus all'età di 8 anni Giocava fino ai 16-17 anni In posizioni molto avanzate Poi pian piano è diventato un ottimo centrocampista Mezzala Allegri lo impiega oggi però da regista Quindi lui affiancato e sostenuto da Zaccaria e da Rabiò Chiuso all'ultimo istante all'interno dell'area di rigore del Venezia Da Caldara Caldara poi ce la regala E allora al limite dell'area può andare con seguito Traversa Mica Pellegrini Super traversa di Pellegrini Con uno shoot Ma che inizio di nuve Dai 20 metri Allora Caldara lo sciagurato rinvia male la palla E la rinvia più o meno in questa zona qui Dove c'è Pellegrini Che controlla e non ci pesa su due volte Fa partire un tiro violentissimo Traversa piena Palla che poi schizza in alto Insomma Juventus vicinissimo al gol In tre minuti poteva tenere 2-0 Danilo di nuovo in verticale Dritto quasi sul lato corto Finta di Berleschi Calcio di rigore netto L'arbitro Prontera L'arbitro prontera Non è molto pronto Il rigore sembrava Il rigore sembrava Il gioco di parole Ma adesso la vada Riccardi dove sei? Evidentissimo errore Recuperiamo Adesso la vada interviene E' vero non c'è i carri che urlano E' rigore nettissimo A me sembrava un rigore piuttosto evidente No Goitom Ancora Bernardeschi Vabbè questi anni i giuventini Pisani Sentiamo una persona obiettiva Pesce è da rigore o no? Assolutamente si direttore Ecco Adesso dovrebbe essere da riproposto No non l'hanno ancora riproposto Ecco lo vediamo adesso Vediamo Vediamo C'è A me pare Cerca l'uomo invece di andare sulla palla Non sterza No Piero Piero Un rigorone questo qui Piero rigorissimo Direttamente nel rigore dell'Igd Che ha fatto l'uomo Volucci Leo La canangola Fabione Miretti Mette il pallone Sul secondo pallone Delicte Ah è Miretti Volucci La deposita sotto l'incrocio Come fanno gli intervisti Su C'è la Noglu Ogni palla inattiva E anche assist Allora questo è un assist di Miretti Bello 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 Allora Londo Monoplex Via Si può girare Vlaovic Lascia Miretti Palla deviata Era destinato nell'angolino Calcio d'angolo Bravo Fabio Bravo Miretti Bravo Miretti Bravissimo Fabio Miretti È arrivato anche al tiro Dopo aver confezionato la palla Che ha generato il gol del vantaggio Meglio di Pogba Sedetevi Miretti Anziché spendere i soldi per Pogba Ci avete Miretti E poi è anche bravo nel tiro Una buona Miretti Va bene Andiamo Andiamo al calcio d'angolo Luca Pellegrini Dalla bandierina Traiettoria a rientrare Oddio Traiettoria a rientrare Dentro l'area piccola Tre uomini della Juventus Rabio Disturba il portiere avversario Si va sul secondo palo Cepero Cepero Matteo Allora Delict Conquista Chi è che ha battuto il calcio d'angolo? Pellegrini Pellegrini battuto bene Il limite dell'aria Si sposta ancora sulla destra Buttale Buttati per te Ancora sulla Matteo Crossi in aria Bello Bello Mamma mia l'ho visto dentro Sembrava dentro Il colpo di testa di Andi Mamma mia l'era dentro Hanno bucato la rete Perché non è possibile Glamoroso rischio per la Juve Mi prego date a Vlaovic Un allenatore di calcio Salviamo il soldato Duzan Così farà la fine di Dybala Ma adesso non è che è sempre colpa di Allegri Sempre colpa di Allegri Allora vogliamo dirla tutta Dunque uno Morata Ha fatto male con qualunque allenatore C'è un buon attaccante Ma non si è mai visto un super Morata Bernardeschi Faceva schifo anche Prima che arrivasse No? Ecco Allegri Si compirlo C'è un italiano segnava con Iachini E con Vlaovic segnava con Iachini E con l'italiano Con Allegri no Che è solo Allegri Che mi sembra riduttivo Attenti Al Venezia Direttore di forza Si presenta in aria Cringo E la mette sopra la traversa Di pochissimo Incredibile Pareggio al Venezia Proprio con Aramu Un clamoroso errore difensivo Ancora della Juventus Bravissimo Aramu Ma dopo tutta la serie di palle e gol Non è certo il casuale Questo 1-1 Meritatissimo direttore Meritatissimo L'ultimo tocco non è di Dusan Dai che adesso Dusan ti fa gol Dai vedrai Calcio d'angolo ancora Stessa posizione precedente Quindi la traiettoria sarà uscire Cerca Bonucci Trova Danilo E Bonucci Ci mette la zampa Ci mette la zampa Corvette di Biretti Testa di Danilo Che è una nuova sfonda Per il nostro contor Il nostro centravanti di giornata Bonucci Sotto portamento dentro È vero Ma che robe Ma che robe devo vedere Però è incredibile Ma che robe devo vedere Ma che cosa vogliamo vedere Dove è un agavento Conluci Dai Chi avete voi di specialista? E Ciccaroni Ah Ciccaroni La parla Fuma sbaglia crabolosamente Il calcio d'angolo il Venezia Ma che pippe ragazzi E adesso entrano Due giocatori fondamentali per il Venezia Ulman e Occarecche Pulman e Occarecche Ulman e Poparecche Ma che poparecche? Ci dica di Ulman Ci dica qualcosa di Ulman Pulman Pulman non dice la parola Pulman Non dice la parola Quindi È un tassone Ulman Non ce l'ha più davanti È uscito Mattei Ed entrano adesso appunto i giocatori Evidentemente più offensivi Ulman per Aps E Occarecche per Mateiu La barra diciamo è stata generosa Chi era il varista? Finisce qui Varista Mazzoleni 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 Che non ne azzecca quasi mai uno Ultimamente 2 a 1 Juventus No onestamente Dobbietta di Leonardo Bonucci Lo dico beneficio degli juventini Voi avete avuto il vostro peggior torto Credo subito l'anno scorso Quando venne espulso Chiesa Se ricordo bene Ed era dove? Crotone 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 Per un fallo infinitamente meno grave di questo Che si è visto adesso Va bene Allora ecco purtroppo guardate Questa incredibile sintesi del secondo tempo Cioè la Juventus secondo tempo Un tiro di Morata E poi di Miretti Ma senza grandissime emozioni E poi il gol di Bonucci Che trascina il pallone in rete Su calcio d'angolo Guardate cosa ha fatto il Venezia Tiro al corso intenzioso Di Kringoi alto Aramu su punizione Scesni vuole e mette in angolo Aramu da cento area Calcia sfiora la traversa Aramu da lontanissimo Nell'angolino segna il gol E poi il 92 Sì un punizionale distanza Di Kine Kine e Scesni c'è Diciamo che le vere palle gol Sono quelle del sessantesimo Settantesimo e settantunesimo Sono stati tre minuti da incubo Per la Juventus La Juventus non ha saputo Però costruire nulla Di veramente pericoloso Nel secondo tempo Malgrado tutto dovesse essere facile Per la Juventus Che stava comunque vincendo 1-0 I promossi per la Juventus Bonucci Che ha fatto due gol Olmiretti e Scesni Che ha salvato Mentre i boccianti sono Blaovic E poi vedremo appunto la sua pagella Di Bala che entra ed è quasi irritante E anche Zaccaria Che vedevamo prima Commette un fallo Che ha rischiato di lasciare la Juve In dieci dopo soli 23 minuti All'inizio del primo tempo Ed è andato bene che il VAR Non si è intervenuto Andiamo a vedere adesso invece C'è i